Ciao a tutti, nuovo video per dirvi una cosa che faccio ogni volta che mi esce un livido praticamente leggendo un libro di alimentazione improntata sul naturale ho scoperto e la cosa funziona, il che mi stupisce molto ma ormai è ormai un anno, l'ho scoperta tipo l'estate scorsa questa cosa e funziona, che quando mi esce un livido, perché appunto prendo dentro, cado, mi faccio male io poi sono, diciamo, nelle cadute sono la campionessa mastico un pezzettino di mela e so che può far schifo forse il pezzettino masticato lo vado ad appoggiare per un quarto d'ora sulla parte interessata e lo faccio circa tre giorni di fila più o meno e mi passa, cioè devo dire che il succo della mela alimentato alla saliva mi passa questa cosa in realtà è stata scoperta dall'autore di Mangiarsano e Naturale che appunto per sbaglio ha fatto questa scoperta, ora non so perché, non me lo ricordo e devo dire che funziona, l'ho provata anch'io la cosa veramente è bislacca, però i rimedi naturali sono quelli più efficaci a volte e quindi provate, fatemi sapere come vi siete trovati io vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!